Musica Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione di Etigi Mar che ha fatto tappa anche ad Ancona, a Città e Scena, il festival diffuso della rigenerazione urbana. Vediamo. Le città stanno vivendo un momento particolarmente importante e interessante perché grazie soprattutto ai contributi che hanno ricevuto attraverso il PNRR e altre misure del governo e anche dell'Europa oggi possono provare a cambiare soprattutto quelle parti di città che nel corso del tempo sono state un po' marginalizzate. Piccoli e grandi interventi di rigenerazione urbana con un valore compreso tra 256.080 milioni di euro per restituire alle città luoghi abbandonati o in disuso convertendoli in strutture dedicate alla cultura, al turismo, all'abitazione e a servizi per la comunità. Sono le caratteristiche principali dei 19 progetti presentati ad Ancona nel corso della terza tappa territoriale di Città e Scena, il festival diffuso della rigenerazione urbana dedicato alle regioni di Marche e Abruzzo, promosso da Ance, Mecenate 90 e Fondazione Musica per Roma. Sicuramente la rigenerazione urbana sarà la prossima frontiera dell'urbanistica e degli operatori edili, questo perché ovviamente anche dopo il Covid noi persone praticamente andiamo alla ricerca del bello, andiamo alla ricerca di spazi vivibili, andiamo alla ricerca della socialità. Questo significa in qualche maniera tramutato nel mondo urbanistico e nell'edilizia a ridare vita a quei territori che sono stati oggetto di interventi edilizi e che oggi non sono sfruttati. Rigenerazione urbana, come dicevo, significa ridare vita ad un territorio, ridare vita facendo in modo che questo diventi, come accennavo prima, spazio di socialità. Quali in particolare i progetti che presenterete qui oggi parlando di Ancona? Dunque, questa terza tappa del festival di generazione urbana, la città di Ancona va in scena con alcune progettualità estremamente significative perché partiamo dalla zona della riqualificazione del lungomare, quella prima tratto di lungomare che da via 29 settembre passa per Piazza del Crocifisso e poi per quello che riguarda la generazione di un'area piuttosto depressa che è quella del mercato e del mercato di Piazza d'Armi. La Giunta Acquaroli sta facendo la sua parte, rigenerando il territorio marchigiano pensando alla qualità non solo in senso verticale, i nostri palazzi, le nostre mura, ma anche in senso orizzontale. Ad esempio tutte le nostre infrastrutture che portano ad avere sì sviluppo economico nella nostra regione, ma una migliore vivibilità degli ambienti dove stanno e dove vivono le nostre comunità e dove cerchiamo di attrarre i nostri turisti che vengono a visitare le Marche. Dopo Ancona il festival arriverà l'Aquila scelta come città simbolo per una tappa speciale dedicata interamente agli interventi che rientrano nell'ambito della ricostruzione post-eventi sismici. Vendevano auto usate riducendo illegalmente i chilometri sequestrati i beni per oltre 4 milioni di euro, tra cui due ville di lusso a nove cittadini rumeni. Circa 253 truffe e frodi per oltre un milione di euro nel commercio di auto usate riducendo i chilometri realmente percorsi dalle vetture. Sequestrati i beni per un valore di circa 4,3 milioni a nove cittadini romeni già sottoposti a misure cautelari residenti nelle province di Ancona, Teramo e Vicenza, dai carabinieri di Brecce Bianche ad Ancona. In particolare sono state sequestrate ad Ancona una villa realizzata nei primi del Novecento e una villa con vista mare per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro. Le partecipazioni societarie di otto società, tre concessionari di auto con sede ad Ancona nella provincia, 174 veicoli, conti correnti bancari e postali. A insospettire gli inquirenti, proprio gli acquisti degli immobili effettuati con assegni circolari e senza accensione di finanziamenti né mutui da parte di persone apparentemente nullatenenti e prive di redditi, ma con un'elevata liquidità da impiegare in diverse operazioni commerciali. Questo aspetto, unito al tenore di vita ostentato, ha fatto ritenere che i beni siano stati acquistati con proventi di attività illecite, sfociate già in diverse condanne. L'indagine aveva dimostrato l'esistenza di un consolidato gruppo criminale che nell'arco di due anni aveva messo in atto un numero impressionante di truffe nel commercio di auto. Alcuni destinatari dei sequestri sono stati condannati dal Tribunale per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, per altri invece è in corso il dibattimento ad Ancona. Da qui l'ulteriore impulso investigativo, la richiesta e la concessione dei sequestri. Non si ferma la scia di sangue lungo le strade marchigiane. Stanotte un 35enne che si trovava in sella alla sua moto è morto a seguito di uno schianto frontale avvenuto con un'auto lungo la strada statale 76 poco dopo l'uscita di Apiromergo. Altro schianto da brividi invece questa mattina lungo la direttissima del Conaro. Un centauro è stato portato in codice rosso all'ospedale di Torrette. L'incidente è avvenuto attorno alle 9.30 proprio davanti all'area di servizio Helios. Lo schianto con un'altra vettura, una macchina. Off limits invece nella mattinata di oggi la zona di Palazzo Costa Macerata per le operazioni di sollevamento e allontanamento degli ordini bellici trovati nell'edificio oggetto di lavori di restauro e di miglioramento antisismico. Le operazioni di bonifica sono state eseguite dal reggimento genio ferroviere di Castelmaggiore. Gli ordini bellici saranno poi fatti brillare in un posto al sicuro. Siglato un nuovo accordo tra la BEI e la struttura commissariale per sostenere la ricostruzione delle aree colpite dal sisma dell'Italia centrale con altri ulteriori 2 miliardi di euro. Quest'ulteriore pacchetto finanziario si suddividerà in un prestito diretto al MEF da un miliardo di euro per la ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e in un altro miliardo veicolato al sistema bancario tramite cassa depositi e prestiti per sostenere la ricostruzione degli immobili privati, residenziali e industriali. E adesso torniamo a parlare della crisi idrica che ha colpito il Piceno perché la CIP ha scelto di andare incontro agli utenti e di posticipare le chiusure notturne dell'acqua alle ore 23 ma solo per quello che riguarda la situazione del weekend. In particolare per i giorni di venerdì e sabato una decisione che è arrivata nel corso dell'Assemblea dei Socii. Si legge in una nota diffusa appunto dalla CIP. L'impegno in questa direzione è per mitigare il disagio delle chiusure necessarie per garantire un'equa distribuzione della risorsa idrica disponibile vista la conclamata riduzione delle portate disponibili dalle sorgenti e del costante utilizzo degli impianti di soccorso alla loro massima potenzialità di un aumento della domanda idrica da parte dell'utenza legato all'andamento climatico stagionale. Quindi questa dunque è la situazione. Permane appunto la crisi idrica che interessa il Piceno e il Fermano. Parliamo adesso invece dei saldi. La partenza non è brillante. I commercianti dicono iniziati. Troppo presto. Come sta andando questa stagione di saldi? Né bene né male. Ci accontentiamo. Tanti tempi sono questi. È iniziato da poco ancora quindi... Però le persone vengono. Sì, sì, vengono anche perché ho mandato i messaggi a tutte le cliente abituali per cui non ci sono problemi. Sì, la voricchia. Un po' meno rispetto agli altri anni, però qui poi c'è sempre sconti durante tutto l'anno. Cos'è che chiedono di più? Adesso con questo caldo prevalentemente t-shirt e bermuda. Non sono partiti in maniera scoppiettante, ma comunque c'è sempre chi non resiste al richiamo dei saldi iniziati lo scorso 6 luglio in tutta la regione. Un avvio che però coincide con l'arrivo del caldo e del tempo stabile dopo un mese di giugno dal meteo ballerino. Un dettaglio che fa storcere la bocca ai commercianti che da qualche anno ormai chiedono uno slittamento più avanti delle svendite. I saldi è troppo presto perché sono tantissimi anni che ho l'attività, una volta si iniziava a fine agosto praticamente ed è la cosa più giusta. Solo che noi bene o male un pochino di sconto al cliente abituale lo facciamo sempre, per cui con i saldi si ne approfittano specialmente quelli che magari non sono clienti abituali. L'abbiamo sempre detto, i saldi di fine stagione non sono perché si fanno quando la stagione inizia, i primi di luglio, quindi andrebbero almeno spostati di un mese. C'è voglia comunque di spendere oppure si sta un po' più attenti? Un po' più attenti rispetto agli altri anni sì, un pochino meno. Sì, adesso si spende un pochino meno perché si pensa più magari al divertimento, a mangiare, le seratine. La maggior parte delle persone chiaramente è molto attenta ai prezzi e quindi o chiede già adesso uno sconto più alto se uno è disposto a farlo o aspetta che gli sconti arrivino, che ne so, al 50, insomma, ecco. E adesso andiamo a vedere una notizia che troviamo anche sul nostro sito che riguarda l'Ascoli Calcio. C'è un'offerta di Metal Coat per l'acquisto della società. L'azienda leader nel settore dei rivestimenti metallici con uno stabilimento anche ad Ascoli Piceno ha infatti presentato un'offerta formale per l'acquisizione della società Ascoli Calcio 1898 FC, recentemente retrocessa dal campionato di Serie B in Serie C. ne dà una nota dello studio Chiesa nella quale si legge che l'offerta avanzata da Metal Coat riflette non solo un forte e concreto impegno finanziario ma anche una visione strategica a lungo termine per l'afforzamento e la crescita della società calcistica. Ovviamente si attende ora quella che sarà la risposta ufficiale di Massimo Pulcinelli, patron della società bianconera. Nelle Marche sono 34.823 le firme raccolte per ognuno dei quattro quesiti per il referendum avviato il 25 aprile scorso. Nella regione si sono svolte 500 assemblee e sono stati allestiti 490 banchetti da parte della CGL che ha scelto di proporre questi quattro quesiti. La campagna agli sgoccioli dichiara Giuseppe Santarelli, segretario generale CGL Marche. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Il prossimo 19 luglio la CGL nazionale consegnerà le firme raccolte alla Corte di Cassazione che poi le trasmetterà alla Corte Costituzionale per verificare l'ammissibilità dei referendum. Se non ci saranno ostacoli si dovrebbe votare la prossima primavera. A Palazzo dei Priori di Fermo la mostra su Adolfo De Carolis, artista multiforme. Vediamo. Si parte dal lessico familiare per poi passare attraverso le mate sponde, il mito e la storia, la pietas, fino alle origini del design. Sono le cinque sezioni che compongono la mostra nello studio di Adolfo De Carolis, ospitata a Palazzo dei Priori di Fermo. L'esposizione segue quelle di Antonio Ligabù e Giuseppe Pende all'interno della rassegna Il Tempo delle Mostre, inaugurata l'8 luglio, resterà aperta fino al 3 novembre. Protagonista indiscusso della stagione artistica che caratterizza il panorama dell'Italia post-unitaria nei decenni a cavallo fra 8 e 900, lo spirito eclettico di Adolfo De Carolis lo ha portato a primeggiare in vari campi, dalla pittura alla decorazione, dall'axilografia alla scenografia fino al design, il stretto contatto con i più eminenti intellettuali del suo tempo. Un percorso in cinque tappe che consentirà al grande pubblico di comprendere da un lato la straordinaria abilità tecnica di De Carolis e la sua versatilità. De Carolis è ricordato soprattutto per aver reintrodotto nel campo dell'arte la tecnica xilografica e poi l'occasione per verificare come la cultura letteraria di De Carolis abbia notevolmente influenzato la sua produzione artistica in un intreccio appunto tra pittura e letteratura che vedrà De Carolis assai apprezzato da Gabriele D'Annunzio e da Giovanni Pascoli per i quali ha realizzato diverse opere. La mostra è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo con il patrocino del Comune di Fermo, l'organizzazione e di maggiori cultura e turismo. L'esposizione rappresenta il momento centrale delle iniziative promosse in occasione delle celebrazioni decarolisiane dal comitato che vede la partecipazione dell'amministrazione comunale di Montefiore dell'Aso, paese d'origine dell'artista, di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Fermo. La mostra espone disegni, dipinti, bozzetti, fotografie di cui De Carolis si serviva per realizzare le proprie opere appartenenti alla fondazione della Cassa di Risparmio di Fermo che possiede anche una delle opere più importanti di De Carolis, il Trittico del Mare, che dimostra l'attenzione con cui De Carolis guarda la marineria adriatica cogliendo in essa i riferimenti all'antico epos omerico. Qual è l'operazione culturale di De Carolis? È quello di approfondire la conoscenza delle tradizioni locali, anche delle tradizioni artigianali, la tessitura, la ceramica per poi innalzarle a livello artistico e questo fa sì che De Carolis si sia espresso in vari campi. Certo è un pittore ma è stato anche un abilissimo illustratore, è stato anche un disegnatore di stoffe, un artista che ha prestato la sua opera per grandi manifatture come la Ginori o la manifattura Matricardi di Ascoli Piceno. Si è chiuso domenica 14 luglio il Gran Premio Città di Treia, manifestazione dedicata al mondo femminile delle bocce. Vediamo. È stata una bellissima gara, ovviamente molto comunque difficile perché sono sempre alti livelli quindi bisogna sempre stare lì sul pezzo, però è anche una grande soddisfazione. Sono molto contenta perché è la mia prima gara che ho vinto e sono felice, non ho parole. Iniziamo dalla fine con Ginevra Cannuli, vincitrice della gara major A e B e Luciana Pergreffi delle categorie C e D che ai nostri microfoni ci hanno raccontato l'emozione di aver vinto la prima edizione del Gran Premio Città di Treia, tutto declinato al femminile. Una, due giorni intensa firmata dalla AASD, bocciofila passo traiese. È stato un bel evento di due giorni molto duri, peccato che il sole ci abbia un po' fatto sudare, però è stato bellissimo aver visto delle giocate bellissime da questi giovani. Sono soddisfatto grazie a tutti i miei collaboratori, grazie agli sponsor, all'amministrazione comunale, alla federazione, un po' tutti, grazie anche alla società bocciofila passo traia. Dunque, gran bella soddisfazione per la piccola città di Treia che comunque ha deciso di investire molto in questo sport. È stato veramente un successo e per questo dobbiamo ringraziare soprattutto l'associazione bocciofila passo di Treia che ha curato nei minimi particolari l'accoglienza di tutte queste atlete. Oggi è stata una bellissima giornata di sport, per noi è importante rilanciare il gioco delle bocce perché stiamo investendo notevolmente su un nuovo impianto, un nuovo bocciodromo che andrà a soddisfare maggiori esigenze sia di partecipanti ma soprattutto per lo svolgimento di gare importanti nazionali che vediamo hanno ormai un grande successo, un ritorno di pubblico e di immagine. E prima di salutarci un'ultima ora, una presunta violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni è stata sventata questa mattina a Falconara grazie all'intervento di due cittadini che si sono accorti di quanto stava accadendo e all'arrivo tempestivo di una pattuglia della polizia locale di Falconara. Il tutto si è verificato in pieno centro, in via 8 Marzo, vicino alla panchina dell'Amore. La giovanissima si trovava in auto con l'uomo, un 24enne originario del Bangladesh, regolare in Italia e residente ad Ancona che ora è stato arrestato e accompagnato al carcere di Villa Fastigi dove è presente una sezione riservata proprio agli autori di reati a sfondo sessuale. Al momento sono in corso ulteriori indagini per ricostruire cosa sia avvenuto nei momenti precedenti fatti e come l'uomo abbia conosciuto o avvicinato la bambina sull'evento. Insomma sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Stefania Signorini con delega alla polizia locale che ha detto, ha ringraziato gli agenti e anche i cittadini che non si sono voltati dall'altra parte. Questa era la nostra ultima notizia, io mi fermo qui ma vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi, arrivederci.